E' Carlo Ferrari, nato a Casarano nel Salento e residente a Fossombrone, il vincitore del concorso Edita, bandito dalla Fondazione Carifano per divulgare le opere di scrittori di qualsiasi età rimaste nel cassetto. Opere prime che non sono mai state stampate. L'opera vincente è un romanzo dal titolo Come l'una di giorno. Sentiamo dall'autore di cosa si tratta. Vedere questo libro in mano è davvero una sensazione molto bella, molto particolare. Non l'avrei mai immaginato di arrivare a terminare questo libro che ha un percorso molto lungo, ha una gestazione lunghissima di molti, molti anni. Era lì, abbandonato nel cassetto, di tanto in tanto ci rilavoravo. È stata un po' una tela di Penelope per me, la rivoltavo in continuazione senza trovare mai una fine, ma poi alla fine, una fine l'abbiamo trovata. La scrittura per me è una cosa molto intima, molto riservata. Non ho mai scritto nessuna riga per condividerla con qualcuno, ma soltanto per me stesso, come una cosa che mi faceva star bene come un hobby. Nel tempo poi ho cercato di riunire un po' i vari pezzi di scritti che avevo qua e là, dargli una logica, dargli un filo, e quindi è venuto fuori questo libro che oggi viene pubblicato. Pochissimi riferimenti autobiografici, sono tutti personaggi di fantasia. Due sono i personaggi principali del libro, Sonia e Ricky, due esistenze sbagliate. Lei, proveniente da una famiglia difficile, è vittima di una violenza sessuale. Dopo aver vissuto questa esperienza drammatica, ritrova la forza di ricostruire la sua vita, anche se oscure minacce riemergono dal passato. Lui è un giovane promettente che, nonostante il suo talento, colleziona fallimenti in ambito sentimentale e lavorativo. Solo dopo molti tentativi riuscirà a trovare la sua strada. La conclusione del concorso è stata presentata dal presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, il quale ha espresso un resoconto dell'iniziativa. È un'iniziativa che l'anno scorso, nell'ambito delle iniziative del Trentennale della Fondazione, ha visto la sua prima edizione. È un'iniziativa che abbiamo ritenuto di promuovere anche nel corso del 2023, quest'anno per gli under 30, perché riteniamo che questa possa essere una valida proposta per giovani esordienti che hanno qualche cosa da comunicare e da riferire con un loro lavoro, che sia un romanzo, che sia un'iniziativa editoriale di altro tipo e che quindi la Fondazione mette nella condizione di mettersi in gioco, di proporsi al pubblico. Sabato prossimo alle 17.30, alle 17.30, presso la sede della Fondazione, avverrà la proclamazione del vingitore di Edita 2022. Essendo un bando abbastanza aperto, sono arrivate delle poesie, alcune in dialetto, alcune in rima, sono arrivate delle favole, alcuni racconti che invece prendevano spunto dalla storia vera, reale del nostro territorio. Ognuno dei singoli giurati alla fine si è trovato concorde nel ritenere così vincente questa opera che a nostro giudizio è apparsa una buona opera, una bella narrazione. L'opera sarà distribuita a tutti coloro che presenzieranno sabato alla cerimonia di premiazione.